Amici e amici di Rossini TV, quale posto migliore per iniziare l'anno che non il bagnasciuga di Pesaro? Siamo qua in zona Porto dove tutti gli anni ormai da tempo in memore si ripete questo rito di Capodanno, il tuffo. Il tuffo di Capodanno che coinvolge tanti pesaresi attivamente, tanta gente viene per tuffarsi, ma soprattutto tantissimi vengono ad assistere, un vero e proprio spettacolo, un vero e proprio show che non potevamo evitare assolutamente di testimoniare con le telecamere di Rossini TV. Sarà anche quest'anno come l'anno scorso, la temperatura dell'acqua penso non massima dagli 8-10 gradi, quindi sarà un po' freddina, però l'abbiamo sempre fatto e nonostante tutto non ci arrendiamo, siamo sempre qui pronti a tuffarci e sempre a fare questa bella cosa, perché poi è una cosa che dà comunque anche felicità, è una cosa molto bella, che raggruppa anche queste persone tra di noi, ci vediamo qui magari una volta all'anno, però siamo una volta all'anno sempre qui pronti a fare questo rito. Allora, tra il pubblico c'era anche l'assessore Mila Della Dora, assessore allo sport, per un momento però di sport informale, perché più informale di questo non c'è, non c'è bisogno di iscriversi, c'è un movimento spontaneo, c'è qualcosa di particolare legato alla ricorrenza, il primo dell'anno, il nuoto, il mare, i tuffi, insomma forse la quintessenza dello sport. Sì, è una bella giornata perché questo è un appuntamento immancabile per molte persone che sono qua ad assistere, questi temerari oggi erano una cinquantina, è un appuntamento di richiamo per tante persone, è bello ritrovarsi qua, dare il benvenuto al nuovo anno con questo tuffo, questo tuffo che sicuramente è qualcosa di energico, di adrenalinico, sia per chi lo fa ma anche per chi assiste a questa bella iniziativa, che in modo informale, come dicevi tu, ormai caratterizza tutti gli anni. Questo è il primo anno in cui si può ritornare a quelle che erano le situazioni iniziali, perché a parte i due anni di Covid che qualche temerario si è tuffato ma non c'era la possibilità di avere tante persone così come oggi a incitare questi uomini, donne, che decidono di fare il tuffo del primo dell'anno. Sara, è il tuo primo tuffo oppure sei già esperta? No, ormai io sono espertissima di questa cosa perché sono 15 anni forse che faccio il bagno, è stata una delle prime donne a fare il bagno qua a Pesaro, quindi rinnoviamo la tradizione anche quest'anno, finalmente si ripuò fare dopo il Covid, quindi non vedo l'ora di tuffarmi tutti insieme quest'anno. L'anno scorso eravamo da soli e quest'anno in gruppo bellissimo. Cosa si prova? Prova a trasmettere questa cosa, magari a convincere qualcuno per il prossimo anno. È un'emozione, è un brivido, è una spinta per cominciare bene il nuovo anno che ci dà tutta la grinta e la forza per partire alla grande, quindi è veramente una scarica di adrenalina, questo è, questo. Quindi invito tutti a fare un bel tuffo tutti insieme perché è bellissimo, freddo ma bellissimo. Avevamo! Grazie a tutti.